nelle mani di lina oltre noi stessi a cura dvb cerchio esseno attraverso nt 30 farfalline di plastica gli apporti sono stati materializzati nelle mani di lina antonello la guida fisica dell'esseno ha detto che le farfalline erano tre per ogni partecipante alla riunione quando ognuno ha avuto le sue tre farfalline gli apporti erano esauriti